Molti artisti Ho letto che Victor Hugo, 1802-1885, l'autore di Hernani e il Resi di Verde, fu contagiato dalla moda del nuovo spiritualismo e dedicò molto tempo al fenomeno medianico, quando era esole nell'isola di Jersey, in seguito all'ascesa al trono di Napoleone III. Victor Hugo arrivò perfino a credere che le anime di personaggi illustri si servissero della sua capacità di medium scrivente per dettargli i versi dei quali sostenne di non essere l'autore. Che c'è di vero? Commento Molti artisti frequentano anche inconsapevolmente la medianità grazie alla loro capacità visionaria di accedere ai piani superiori di esistenza. La sensibilità artistica, infatti, è una sottile forma di medianità. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.